Luca Comics and Games 2009 in questa domenica è infuocata con un sacco di gente, prego Riccione TV di far vedere quanta gente c'è, girati Max, abbiamo praticamente lo stand in vaso da player, si è appena concluso il torneo della EA Sports Football Challenge 2010, 2 contro 2. Ho qui 6 campioni, 6 team, 3 team che sono arrivati nelle fasi finali del nostro torneo, parto con i terzi arrivati, voi siete? Matteo, Tommaso. E venite da? Foligno, Foligno. Da Foligno, siete due amici nella vita reale e giocate a FIFA insieme. Sì. Allora, com'è stato questo torneo? Faccio parlare a lui, ok? Beh, è stato un torneo ben organizzato, la fase a gironi è stata svolta regolarmente, diciamo, eliminatori e veloci, insomma, un'ottima organizzazione. Molto bene, come voi siete usciti alle semifinali? Con chi avete giocato e quanto avete perso? Abbiamo giocato con i secondi e abbiamo perso 2 a 0 dopo una bella partita. Ah, non hanno avuto culo quindi? No, no. Sono bravi, sono bravi. Bene, ottimo, questa è sportività. Allora, per i terzi arrivati abbiamo due schedine da 8 giga offerte da Verbatim dove potrete storare tutti i vostri dati, i vostri filmati e i vostri MP3 più, 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 c'erano dei gadget che sicuramente vi daremo dopo. Abbiate pazienza, non li vedo qua. Grazie mille per aver partecipato al nostro torneo, passiamo ai secondi arrivati. Come vi chiamate e da dove venite? Edoardo Prato, Filippo da Prato. Allora, due altri amici perché il 2 contro 2 di solito si gioca con una certa affinità. Sfide online, dopo scuola. Ah, quindi dopo scuola ci si becca subito online e si gioca. Bellissimo perché tra l'altro noi tra pochissimo di video games party organizzeremo anche i tornei online e speriamo di avervi tra le nostre compagini. Per me? Magari anche subito. Allora, come è stato il torneo per voi? Bello, non si era preso gol fino alla finale, noi tornei, rete inviolata, poi ci siamo incontrati finalisti, non è andata come speravamo. Insomma, vi siete caricati di fiducia durante le fasi eliminatorie e le semifinali. Dare la colpa a Ibra più che altro. Cosa ha fatto Ibra? Ha pagato un gol, portavolta, ha preso check, ha fatto due parate, non lo so. Boh, non lo so, si vede che ha fatto troppa pubblicità a Mediaset Premium, troppa roba. Grazie mille ragazzi anche a voi per i secondi arrivati. Abbiamo invece due tappetini Verbatim Precision Gaming Pad con i rispettivi mouse, i Rapier versione 2. Adesso vi do subito anche l'altro. Ecco qua. Fateli vedere fieri davanti alle nostre telecamere. E via. Grazie mille ragazzi anche a voi per aver partecipato al nostro torneo. Arriviamo ai primi arrivati. Ho visto la vostra finale, sono stati davvero grandiosi con i loro Chelsea. Come vi chiamate e da dove venite? Alessio e Stefano. Alessio e Stefano siete di Pisa, vero? Provincia di Pisa. Come è stato per voi questo torneo? È stato tutto in discesa o c'è stato qualche partita? Vabbè, comunque è un gioco facile perché poi noi siamo abituati a giocare, si gioca in live. L'unica cosa è difficoltà con le manopole perché noi si gioca all'Xbox e quindi... Ah, se giocate all'Xbox date le vostre gamertech che magari se qualcuno vuole sfidare... Magari dopo ti si danno. E poi bisogna ringraziare il nostro Ultra, Harry Parshay che è quello leader che ci guarda nemmeno però... È stato un supporter degno di nota e vi ha fatto arrivare fino alla fine. Molto bene, grandi ragazzi per voi, grandi premi. Innanzitutto le medaglie, incoronatevi a vicenda, del nostro torneo. Poi abbiamo... guardali, guardali. Poi abbiamo il bellissimo Need for Speed Shift per PC. E due cuffie digitali, Verbatim con qualità sonora 5.1, quindi su un round. Grazie mille per aver partecipato al nostro torneo. Speriamo di vedervi nei nostri prossimi, che sarà la Pelota di Milano il prossimo 28-29 novembre. Da Videogames Party è tutto per quanto riguarda questo primo pomeriggio di questa domenica di Luca Comics & Games. Il divertimento continua. Iscriviti al nostro canale.